Siamo il 12 agosto del 1989, un proprietario qui davanti l'ha seminato molto tardi ma siccome la stagione sta a fallorire, ha fatto la tenda che noi abbiamo fatto per gli operai, per il sole in questi giorni picchiaforte nel mese di agosto e allora protegge un po', non li lavorano di più si male non passa eh? è enorme dove ti arrivare? ecco un po' spazio, le bolline è bene le casse, l'inizio delle frise armoniche questo qui è il principio della cassa un po' lì lo stanno non sembra una scantola ma poi c'è un errore arrotondata queste qui sono le più costose ogni oce si hai 200 lire tutto uguale tutto uguale si si tutto uguale il libro è proprio il libro, il libro è proprio il libro che è portato, l'ho applicata alla casa 420, 450 voci è tutto pieno, pieno, pieno di musica Molte vengono esportate nel nord Europa, Norvegia, Finlandia, Svezia, poi in Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Francia una parte, anche negli Stati Uniti, una piccola fabbrica, però l'abbiamo portata massimo sul teatro, insieme l'abbiamo portata a un livello che è un euro, che non ha permesso di strumento, che c'è, che c'è in Europa, che è in parte di un mondo. Grazie a tutti, grazie a tutti.